Allora ragazzi continuiamo con le fratture dell'arto inferiore. Abbiamo fatto le fratture del femore prossimale della diafisi femorale. Passiamo a continuando le fratture del femore spostandoci nel contesto del ginocchio dove includiamo le fratture sovracondiluide femorali isolate dei condili femorali, poi quelle della rotola, del piatto tibiale e delle spine tibiali. Le sovracondiluide femorali non sono molto frequenti, sono a pannaggio dei giovani, interessano la metafisi distale del femore subito al di sopra del massiccio epifisario che resta in tal modo isolato dalla diafisi. Queste sono complete, presentano uno spostamento abbastanza tipico, il frammento distale si flette posteriormente, i cosiddetti gemelli, per cui il suo apice può determinare una compressione sul fascio vascolo nervoso al poplite perché va posteriormente con compressione del circolo periferico, compromissione, scusate, interessamento dello sciatico popliteo interno e quindi necessario costantemente controllare la pedidia e l'efficienza dei muscoli flessori del piede. Il trattamento è incruento se non esiste spostamento interfraimentario, qualora non si riesca a ridurre la frattura allora si fanno delle placche a viti, fratture che richiedono un consolidamento rapido di 40-50 giorni e le sovracondiluidea. Quindi diciamo molto velocemente, a meno che ci dovessero essere degli spostamenti interfraimentari allora è cruente perché altrimenti se non ci dovessero essere, cosa che appunto qui non succede? Di solito ecco allora beh si interviene in modo incruente. Per le fratture dei condili femorali invece, io mi aiuto sempre con le immagini ragazzi, con le fratture dei condili femorali allora possono interessare un solo condilo monocondiloide o tutti e due i condili con una rima di frattura attiva Y. Avvengono per sollecitazioni in valgismo o in varismo o per caduta dall'alto. Vabbè, l'obiettivo fondamentalmente è ricostruire il tutto nel modo più equilibrato sul piano anatomico. Il trattamento è cruento con osteosintesi con viti canulate o placche e viti con immobilizzazione per 30-40 giorni. Le fratture della rotola sono molto frequenti, specie nei bambini, è un trauma diretto caduta sul ginocchio, urto contro il cruscotto, il trauma indiretto e con brusca contrazione del quadricipite, ma è raro. Possono essere comminute, trasversali, sagittali, parcellari, infrattive, infrazionali. La sintomatologia, fondamentalmente il dolore, la motilità preternaturale, impotenza funzionale, la diagnosi. Allora, le differenziali per le fratture trasversali sono la rottura del tendine quadricipite e le rotture del legamento rotuleo. Ovviamente questi li verifichi con la risonanza magnetica. Invece la differenziale con le fratture parcellari e marginali va con la rotula bipartita, causata non da un trano ma da una mancata saldatura di un nucleo di ossificazione. Le complicazioni immediate sono alterazioni cutanee con escorazione, flittene, esposizione infettiva, associazione a frattura di cotile, quindi va sempre ricercata. Dipende dal tipo di trauma, capì? La caduta in ginocchio, l'urto contro il cruscotto, poi quelle tardive, la pseudoartrosi, la rigidità del ginocchio, l'artrosi femoro rotulea. Trattamento incruento nelle infrazioni, fratture senza diastasi interframmentaria, cioè quando non c'è l'interessamento, no? Dispostamento interframmentare, con una ginocchiera, un tutore femoro malleolare per 20-30 giorni. Il cruento invece appunto è un discorso di cerchiaggio metallico con viti particolari. È intensa fisiochinesi terapia postchirurgica. Per quanto riguarda invece le fratture del piatto tibiale, allora, queste possono essere emipiatto esterno, emipiatto interno, oppure fratture di tutti e due i piatti tibiali, terribile. È un trauma indiretto, quindi esercitato dal condilo femorale sul piatto tibiale corrispondente, quindi cadute dal cavallo, dalla motocicletta. Molto frequentemente, meno frequentemente, scusatemi, le sollecitazioni per valgizzazione e varizzazione. Allora, possiamo avere infossamenti, fratture verticali, fratture composte a V, a T, a Y, ma queste, diciamo, sono più per le forme di entrambi i piatti. Le lesioni sono, nelle lesioni più lievi come le infrazioni, infossamenti, il dolore, da carico, da pressione. Nelle fratture più importanti, infossamenti notevoli, diastasi interframmentare, scomposizione dei frammenti, tumefazione dei ginocchi e chimosi, dolore vivo, impotenza funzionale e talvolta deformità. Le complicanze immediate, rottura di 1 o più legamenti, compromissione dello sciatico popliteo esterno, non dello sciatico popliteo interno, quello è quando avevamo le sovracondiloide che andavano a flettersi posteriormente tirate dai due gemelli di gastrocnemino. Mentre qui, quindi, abbiamo lo sciatico popliteo esterno, la rottura di 1 o più legamenti, le tardive, l'artrosi, ginocchio, varovalgo e la lassità articolare. Il trattamento, allora, dopo un'attacca, chiaramente in assenza di infossamenti o décalage, quindi rotazioni, incroento, immobilizzazione femoro-podalico, non femoro-malleolare, ma podalico per 40 giorni, evitando però il carico diretto per almeno 60, nei gravi infossamenti e fratture composte, placche e viti. Ok, va bene, va bene, poi non entro nei meriti delle terapie di tutti i tipi di fratture che potevamo avere dell'emipiatto, laterale, mediale o di entrambi gli emipiatti, comunque, in bassa la gravità la chirurgia. Fratture delle spine tibiali sono rare, ma non eccezionali. Si distinguono in fratture isolate della spina tibiale mediale, della spina quindi interna, o della laterale o esterna. E più frequentemente di tutta l'eminenza intercondiloidea, per un trauma indiretto da strappamento dei legamenti crociati che vi si inseriscono, dolore, tumefazione, martro, impotenza funzionale, il trattamento è incruento con femoro-podalico per 40 giorni. Se lo spostamento interframmentario è accentuato, onde evitare alterazioni funzionali di uno a entrambi i crociati, allora vi fa riduzione sintesi, seguita da immobilizzazione per 30 giorni, ma qui quando appunto siamo di fronte a una condizione di diastasi interframmentaria. Quindi, fratture del ginocchio fatte, passiamo adesso alle fratture della gamba. Io intanto sfoglio perché qui ce n'è di tutte e di più. Fratture della gamba, allora, l'interruzione contemporanea della tibia, del perone nel tratto diafisario, meno propriamente vengono dette fratture di gamba, le fratture isolate della diafisi tibiale, quindi per gamba intende sia diafisi di tibia che di perone. Sono frequentissime, specie in adulti e bambini, trauma diretto. Nel trauma indiretto invece il meccanismo è torsionale, ok? Quindi si frattura prima la tibia, subito dopo il perone a livello diverso, quindi in questa maniera. Abbiamo frattura a legno verde sotto perioste tipiche dell'infanzia, fratture complete a rima trasversale, trauma diretto, fratture obliqua da trauma indiretto, ve l'ho detto, fratture spiroidi da trauma indiretto, fratture bifocali, significa che sono a due altezze della diafisi, fratture del terzo frammento, con terzo frammento vuol dire che noi abbiamo un trauma, come dire, di rima trasversale più un terzo frammento triangolare che si stacca dalla tibia. Fratture pruri frammentate da trauma indiretto, terribile. Nelle fratture complete a due frammenti la scomposizione costituisce pressoché la regola, cioè angolazione, invalgismo, in recurvato, recurvato vuol dire che va indietro la curva, procurvato va in avanti, risalita del frammento distale, rotazione del frammento distale per i muscoli, quindi ci sono anche queste condizioni. La sintomatologia è modesta nelle fratture incomplete e sotto periostee invece molto spiccate in quelle complete, quindi dolore, deformabilità, angolazione, anomalie, motilità preternaturali, impotenza funzionale, complicanze immediate, esposizione, comparsa di flittene, precoci, irriducibilità per l'interposizione di lembi muscolari, piccoli frammenti, instabilità della riduzione nelle fratture spiroidi, per l'ansola periostale, tra le complicanze tardive, ritardo di consolidamento, vizi di consolidamento. Il trauma è incruento nei bambini per le fratture incomplete e non scomposte anche dell'adulto, se esiste scomposizione si andrà alla riduzione mediante trazione continua, trans, calcaneare, dopo alcuni giorni di trazione sul telaio di Brown si correggerà con manovre manuali sul letto ortopedico in anestesia generale, l'eventuale residuo a scomposizione poi dei frammenti, lo stato di riduzione dovrà essere controllato poi nei giorni successivi con esami radiologici in gesso onde evitare spostamenti secondari, quindi diciamo che per le forme scomposte si provvede in questa maniera. La riduzione ottenuta si immobilizza quindi o con femoro podalico a ginocchio flesso per primi 30 giorni, poi ginocchio esteso con caratteristiche di carico per 40-50 giorni, infine gambaletto per 30-40 giorni, quindi molto molto lungo. Secondo orientamenti più recenti si può ricorre all'uso del gesso funzionale o di un tutore funzionale da applicare dopo circa 4 settimane di immobilizzazione con gesso tradizionale. Nelle fratture invece complete della gamba dell'adulto la terapia è cruenta, ok? Non entro nei meriti poi di tutti i tipi di applicazioni che si utilizzano per i vari tipi di fratture, queste cose le approfondirò quando ripeterò di nuovo ortopedia per il test di specializzazione. Chiaramente in base al tipo di trauma ci sarà un tipo di stabilizzazione che noi dovremmo creare, se intraossea o esterna, ok? Queste metodiche consentono il carico diretto dopo solo i 20-30 giorni dall'applicazione, quindi queste metodiche facilitano molto l'outcome. Allora, io mi fermerai qui con la video-lezione e ne farei una nuova, quindi ci vediamo per la prossima.